Cookie, ti stanno simpatiche le nuove amiche? Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Cinzia e nel video di oggi finalmente vi presenterò una nuova amica. Ma partiamo dal principio. Dovete sapere che io sono cresciuta circondata ad animali e infatti quando è stato il momento assieme al mio compagno di cercare una casa dove stabilirci, uno dei requisiti fondamentali era quello di avere un sacco di verde, un sacco di spazio all'esterno a disposizione, proprio per poter tenere degli animali. E finalmente quel momento è arrivato. Con la nuova amica che vi sto per presentare in realtà ci ho già avuto a che fare perché era uno degli animali che avevamo in famiglia. Ed è un animale che per quanto mi piacesse mi incudeva sempre un pochino di timore perché non è propriamente di indole pacifica. E anzi, se non vi considera un suo amico ma un intruso, vi conviene stare attenti perché il rischio che vi attacchi è molto alto. Diciamo pure che viene considerato un po' una sorta di cane da guardia. Poi crescendo mi sono imbattuta nei libri di Conrad Lorenz, che è un importante etologo che ha passato tutta la sua vita a studiare i comportamenti degli animali e che ha scritto diversi libri proprio sul comportamento di questa mia nuova amica. Ed è lì che, diciamo, è nato proprio l'amore. Quindi sapevo che sarebbe stato un animale che avrebbe fatto parte prima o poi della mia vita. E finalmente quel momento è arrivato. Prima di presentarvela però, in realtà possiamo anche già iniziare a darle un nome, si chiama Gertrude. Ed è un riferimento ad un vecchio film che amo e non so quanti lo conoscano e coglieranno questo riferimento. Ma ad ogni modo, dicevo, prima di presentarvela vi porto con me nei giorni che hanno preceduto il suo arrivo per farvi vedere come abbiamo sistemato gli spazi per accoglierla. La prima cosa da fare è stata sfalciare la parte di prato in cui verrà costruita la casetta. Sapete quanto io ami e reputi importanti i prati incolti, quindi abbiamo ripulito solo l'aria indispensabile in modo da lasciare che tutto attorno i fiori e le piante varie possano continuare il loro ciclo e possano dar riparo e nutrimento a tutti i preziosi insetti, impollinatori e noni. Poi l'idea era quella di iniziare ad assemblare e a montare il tutto, però o io e il mio compagno improvvisamente siamo diventati incapaci che, insomma, essendo un perito meccanico io e un perito elettronico lui, diciamo che di solito il senso pratico non è che ci manchi, oppure quelli che ci hanno venduto la casetta, diciamo che hanno sbagliato ad inviarci tutte le viti e la minoteria, quindi siamo dovuti andare al brico a recuperare tutto il materiale necessario. In realtà l'idea iniziale era quella di costruire da noi tutta una struttura fatta in legno che potesse servire appunto da ricovero. Il problema è che qui, vivendo praticamente sul confine con il bosco, senza una divisione o una recensione, ci sono moltissimi animali selvatici, quindi era importante costruire una struttura che fosse sicura. Quindi non ce la siamo sentita ad imbalcarci in questa impresa, abbiamo optato per una struttura che fosse già costruita proprio a prova di predatore, in modo che la piccola povera Gertrude non diventi un pranzetto sfizioso per le volpi, le faine, i lupi e tutti gli altri animali che gironzolano nel bosco. Oltre a questo poi la struttura deve reagire bene anche a nevicate abbondanti, a piogge quasi quotidiane, quindi abbiamo deciso di andare sul sicuro. Ad ogni modo, con le viti corrette l'assemblaggio è stato piuttosto semplice. Certo, arrivati alla fine ci siamo resi conto di esserci dimenticati di stringere una vite che ovviamente a quel punto era raggiungibile solo dall'interno, quindi ho dovuto testare la solidità del rifugio entrandoci, ma ora che l'abbiamo ultimato devo dire che sembra veramente ben fatto. E anche il sovrintendente ai lavori pare soddisfatto del risultato. Nei giorni seguenti abbiamo poi montato la prima recinzione esterna con Stella che ci teneva d'occhio mentre smangiucchiava le mele direttamente dall'albero. L'idea è quella di avere due recinti, uno completamente chiuso, abbastanza grande da poter lasciare liberamente e senza pensieri Gertrude quando magari saremo via per qualche giorno, ed un altro recinto molto più grande in cui potrà gironzolare assieme anche ad altre amiche che credo arriveranno a breve. In realtà Gertrude doveva già arrivare in compagnia di una sorellina, però purtroppo quando era piccola un falchetto se l'è rubata e portata via. La natura è anche questo, ma da qui capite l'importanza di avere una recensione, una struttura che sia solida e completamente chiusa. Poi finalmente è arrivato il grande giorno dell'incontro ufficiale. Non ho né foto né video di quel momento in realtà perché eravamo ad un'oretta da casa, faceva caldissimo e il mio unico pensiero era quello di arrivare a casa il prima possibile in modo da non far patire troppo caldo a Gertrude durante il viaggio, quindi ho pensato solo a tornare a casa. Questo succedeva domenica, oggi siamo mercoledì, quindi sono tre giorni che io e Gertrude ci stiamo un po' conoscendo e ora è il momento di presentarla anche a voi, quindi andiamo! Ed eccola qui, lei è Gertrude ed è una giovane ochetta. E beh, siccome non potevamo lasciarla da sola, anche perché era abituata alla presenza dei suoi simili, abbiamo adottato anche questa piccola anatra che considera già Gertrude la sua nuova mamma, ma di fatti la segue ovunque e le sta sempre appollaiata addosso. Come vi dicevo sono passati tre giorni dal loro arrivo e pian piano stiamo iniziando a fare amicizie. Ora si avvicinano a noi molto più tranquillamente rispetto all'inizio e si vede che iniziano a sentirsi a loro agio. La piccina, che in realtà è ancora senza nome perché stiamo attendendo l'ispirazione, anzi se avete suggerimenti iscrivetemeli, scodinzola in continuazione ed è un segnale come per i cani di gioia, quindi insomma siamo sulla buona strada per diventare amiche. Le oche e le anatre sono animali che amano l'acqua, quindi adorano sguazzare, difatti non fate caso a questa piscina improvvisata che hanno al momento perché tra un paio di giorni ne arriverà una di dimensioni decisamente più generose in cui potranno muoversi molto più tranquillamente. Forse vi starete chiedendo ma perché proprio un'oca? Beh, ora ve lo racconto. Dovete sapere che le oche sono animali speciali, sono estremamente fedeli e leali sia verso i loro simili che verso chi le nutre e se ne prende cura ed una volta instaurato un legame di amicizia e fiducia sono coccolose e protettive proprio come lo è un cane. Tant'è che in antichità l'oca veniva spesso impiegata come animale da guardia. In questi giorni sto iniziando ad abituarle alla mia presenza e sto iniziando a capire e ad interpretare i loro versi però ecco, mi pare abbiano già capito che sono una presenza amica e questo è l'importante. Più avanti sicuramente vi aggiornerò con i progressi su come evolve la nostra conoscenza e sui possibili nuovi amici che staranno per arrivare e forse, chi lo sa, lo scopriremo. Ad ogni modo, per ora vi saluto qui, grazie per essere arrivati fino alla fine e ci rivediamo prestissimo. Ciao ciao!